La misericordia di Dio non è una bella idea, ma un'azione concreta. Non c'è misericordia senza concretezza. La misericordia non è un fare il bene di passaggio. È coinvolgersi lì dove c'è il male, dove c'è la malattia, dove c'è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. Papa Francesco lo ha sottolineato con forza, incontrando in Piazza San Pietro 40.000 volontari e operatori di misericordia, protagonisti del Giubileo a loro dedicato. Ha parlato loro dopo aver ascoltato alcune intense testimonianze, come quelle di una missionaria della carità e di un bancario ha finito in carcere per un errore giudiziario, poi diventato volontario, che il Papa ha abbracciato con affetto. L'amore di Dio non è astratto, ha ricordato il Papa, riferendosi all'inno all'amore scritto da San Paolo nella sua lettera ai Corinzi e la sua più grande espressione è Gesù. Davanti a questo amore la Chiesa non può distogliere lo sguardo per non vedere la fame, le malattie e le persone sfruttate. Questo è un peccato grave e un peccato di oggi. Per questo, ha aggiunto il Papa, la credibilità della Chiesa passa attraverso i volontari gli artigiani della misericordia che sono la mano tesa di Cristo con il loro servizio e toccano con le loro mani la carne di Cristo, dovunque c'è una richiesta di aiuto. Il mondo ha spiegato ha bisogno di segni concreti di solidarietà, soprattutto davanti alla tentazione dell'indifferenza e richiede persone capaci di contrastare con la loro vita l'individualismo e il pensare solo a se stessi. E voi, a concluso, parlate del vostro servizio al Signore. Il Signore ci ascolta, chiamatelo. Signore, Dei, guardi questo. Guardi tanta povertà, tanta indifferenza. Tanto guardare da un'altra parte, se no, questo a me non tocca. A me non importa. Ma questo, parlarlo col Signore. Signore, perché? Signore, perché? Perché io sono tanto debole e Tu mi hai chiamato a fare questo servizio. Aiutami, dammi forza e dammi umiltà. Il nocciolo della misericordia è questo dialogo col cuore misericordioso di Gesù. Grazie. Grazie.